Con un volo umanitario operato con un Airbus A320 della Burakeir, sono arrivati ieri all'aeroporto di Fiumicino da Tripoli 97 rifugiati provenienti da diversi paesi africani, dalla Palestina e dalla Siria, evacuati dai campi di detenzione della Libia, dove sono stati vittime di torture e altri gravi maltrattamenti. Tra loro anche alcune persone particolarmente fragili dal punto di vista sanitario. L'arrivo in Italia è stato reso possibile grazie al protocollo d'intesa firmato a dicembre da Ministero dell'Interno, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, Arci, Comunità di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche e INMP, che permetterà a 1.500 rifugiati che necessitano di protezione internazionale di essere evacuati verso l'Italia nell'arco di tre anni. Di questi, 600 saranno trasferiti in strutture del sistema Accoglienza e Integrazione, a carico del Ministero dell'Interno, mentre 900 saranno accolti dalle associazioni, 400 dalla Sant'Egidio, 300 dall'Arci e 200 dalla Federazione Chiese Evangeliche, secondo il modello consolidato dei corridoi umanitari, e subito avviati verso l'integrazione, per i minori grazie alla scuola e per gli adulti grazie all'apprendimento della lingua italiana e all'inserimento nel mondo lavorativo.